Ciao, sono Max Gioviale, creo design e fotografie per raccontare storie. Un grande grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Mandami un messaggio e insieme creiamo qualcosa di fantastico. Non vedo l'ora di dare vita alle tue idee. Ciao, sono Max Gioviale, faccio il design e fotografie per raccontare storie per raccontare storie nel canale di ciò che ci sono, scrivemi e ciò che vi facciamo qualcosa di cool. Mi piacerebbe una idea di realizzare. Ciao, sono Max Gioviale, creo il design e prendo le foto per raccontare storie. Un grande grazie a tutti che hanno stato implico. Envoye-mi un messaggio e creiamo qualcosa di genialo insieme. Io voglio dare vita a te idee. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.